Nel 1917, durante la Prima Guerra Mondiale, Gino Montanari, maestro elementare, romagnolo, ateo, antinterventista e donnaiolo, a causa dei suoi comportamenti libertini viene costretto dal preside della scuola ad arrolarsi come volontario. Al fronte viene destinato a un piccolo avamposto in Valtellina, come eliografista, per trasmettere segnali mors con la luce del sole. La vicenda di Gino Montanari è un escamotage per raccontare la Prima Guerra Mondiale dal punto di vista di un personaggio secondario, come il titolo stesso suggerisce, un soldato semplice. Il perché di questa scelta lo spiega Paolo Cevoli, regista del film. Penso che il punto di vista del basso molte volte restituisca una prospettiva forse più vera, perché in cui ognuno di noi si può immedesimare. Consideriamo che racconto una storia ambientata nella Prima Guerra Mondiale dove milioni di italiani sono andati. Tra questi è anche mio nonno. Mio nonno, che era alpino, artiglieria di montagna, faceva l'eliografista. Aveva questo attresto che faceva segnali morse col sole, una specie di twitter da allora. Nel cast anche Antonio Orefice, già noto al grande pubblico per aver interpretato il personaggio di Bruno nella serie Gomorra e che nel film interpreta Agnello Pasquale. Il ragazzo classe 99 è uno scugnizio di capri che incontrerà al frontegino Montanari cambiando la vita di entrambi. Ascoltiamo proprio il coprotagonista Antonio Orefice. Il mio personaggio è Agnello Pasquale. Agnello Pasquale è un ragazzo che ci tiene molto alla patria, molto alla famiglia, molto alla religione. È uno scugnizio di capri, a questi sogni qua. Diciamo che proprio io sono così, sono uno scugnizio di secondigliano alla fine, sono uno scugnizio di Napoli. Anche io sono così, quindi è stato, per un punto di vista, è stato anche molto facile lavorare su questo personaggio perché ho capito che ero io.